Nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. E' questo breve estratto della Gaudium et Spes che farà da filo conduttore all'incontro nazionale del Lordo Virginum, che si svolgerà dal 28 al 31 agosto all'oasi di San Francesco di Chiusi della Verna. L'incontro segnerà un nuovo percorso quadriennale dedicato alle Costituzioni Apostoliche del Concilio Vaticano II a 50 anni dalla sua apertura. Attraverso l'approfondimento sistematico delle quattro Costituzioni, Lordo Virginum si chiederà come essere testimone credibile del Vangelo alla luce di quanto indicato dai padri conciliari. Punto di partenza del percorso sarà proprio una riflessione sulla Gaudium et Spes per approfondire l'essere della consacrata nel mondo contemporaneo. Lordo Virginum è caratterizzato dalla sponsalità con Cristo, che è il suo proprium specifico, e la diocesanità. Le vergini, infatti, non sono religiose né membri di un istituto secolare. Non fanno riferimento a un fondatore o a una fondatrice, non assumono una regola monastica o uno statuto di vita religiosa, non hanno superiori o superiore. Sono laiche consacrate, che possono vivere in piccole comunità o in famiglia o da sole. Fanno riferimento diretto al Vescovo della Diocesi, che concorda e verifica con ciascuna di esse la modalità dello stile di vita ed eventuali servizi pastorali. Attualmente nella diocesi di Arezzo Cortone e San Sepolcro troviamo due appartenenti al Lordo Virginum. Gemma, che vive a Cortona e svolge servizio di catechesi nella figura di Balù con i piccoli del gruppo Scout, animazione liturgica nella parrocchia di Pietraia e nel terzo ordine francescano di Santa Margherita di Cortona. Simone, invece, giunta alla consacrazione il 12 gennaio del 2012, sta completando gli studi presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Arezzo e presta il suo servizio presso il Centro Pastorale per il Clero e la Vita Consacrata.